Salve un atto showcase sui Minion Stavolta tocca al Minion Viola Che è uno dei miei preferiti Essenticamente bellissimo Apple, parliamo di Apple 14 stelle maxato ovviamente Perché si maxa con la co-op Quindi andate a farvi la co-op e vi maxate tutti Support type Quindi non farà danni raga è un support type 1.3.95 Cioè non è che non farà danni Però non è incinioso di fare danni 1.3.95 Di Power Level Qua vi leggete raga le stats La sua blu La sua verde Qui abbiamo La sua Main Ability La sua Z Ability La sua Unic Ability Che cambia quasi niente A parte questa qui raga Che riduce danni infizio Di 35% Ha iniziato la battaglia per 70% Quindi per metà battaglia Non riceverete Ci vedete 35% in meno di danno Adesso l'architetto È da più un 70% Nel mezzo infitto Però quindi c'è la Main Ability All'inizio della battaglia Fate Fate Il conto che Questo 70% Più quello che darà Ha pure un Critical Quindi potrà anche Cryptare con i Frisa Force Gli allenati Minion Però Io siccome ho allenato i Minion Non ci vedo Quindi forse non so se Crypterà Vabbè Lo scopriremo Mi fate conto Questo 70% Più il danno di Mirai Vi faccio vedere Gli equip Veloce veloce Sono gli equip E noi ci picchiamo In battaglia A posto Ci siamo Prima battaglia Con Apple Ovviamente Il solito lavoro Mi dai Penny Go Donnie E Apple Li deve fare A posto Raga No No Sì Beh Che dire Mamma Mi si sono scomparse I danni Vabbè Ragazzi Sono tipo 4 milioni Danni 4-5 milioni Lo dico io Guarda Mi censurano i danni Non ve li posso fare vedere Non censurano Però C'erano più danni Raga Però Li hanno censurati Comunque Raga I danni Sono tanti 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 Ogni Mimino Mi fa Danni Diversi Ecco Qua Sta Peccando Un po' Perché Ovviamente I fatti di Gohan Vanno Svanendo Alcuni Mimino Ha Chiltato Allora E' vero Quella cosa Che Chiltava Allora Siamo Una bella Blue No 43 secondi Raga Il bello Ci ha messo Tantissimo Ehm Fatelo Dico Ci ha messo Tantissimo A toglierci Danni Prossimo Ed ultimo Match Come ripetevo Secondo Ultimo Match E andiamo Con Gohan Facci Antidanni Piccolo Raga Siccome Questo piccolo Ci metterebbe Tanto A farci fuori Cominciamo A fare Un po' Di danni Noi Che Come potete Notare I danni Qua Non mancano Se ci Sensurano I danni Andate Qua Un po' Questa Che Swichiamo Spenduto I danni Aspettiamo Che Apple Ritorne In campo Finito Yamcha di fare il Coglione Mamma mia Ti adoro Apple Ma basta grittare Non ho parlo Questo Apple è bello rotto Immaginate mettete il minion viola Quello nuovo Più questo Apple è Assurdi Assurdi Amici Detto questo Concludiamo il video